Una razza che ha dei forti legami con i nostri territori perché proprio ai tempi dei medici fu rivalorizzata, riscoperta e incentivata. Quindi con soddisfazione dopo il raduno mondiale del 2017 e il 2020 esaltato per il Covid mi hanno chiesto di riproporre Arezzo come capitale per il terzo raduno mondiale del Bracco Italiano. Arriveranno da tutto il mondo i Bracco Italiano per partecipare al terzo raduno mondiale, un evento imperdibile per appassionati ed allevatori. Sarà infatti ancora una volta Arezzo ad ospitare la manifestazione dall'8 al 10 settembre. Un programma interessante, si prevede la partecipazione come nel 2017 di 19-20 paesi, quindi molti stranieri del nord Europa ma anche dall'America, Nord America e Sud America. Ci sarà un convegno internazionale sulla genetica, quindi sulla razza e la riproduzione. Il sabato mattina al Prato, un palcoscenico naturale che fa impazzire specialmente gli stranieri, le prove di bellezza, l'Expo con tre ringhe dove si individuerà quello che è il Bracco più bello del mondo. La domenica ci spostiamo a un'azienda faunistico-venatoria a Pieve Santo Stefano della Federcaccia dove ci saranno delle prove di lavoro senza sparo per individuare anche il cane più bello ma anche più bravo nelle sue attitudini naturali che sono la caccia. È aperta a tutti ma potranno venire anche gli appassionati, gli amanti del Bracco che non parteciperanno alle manifestazioni più importanti ma, e te l'ho detto, questo secondo me è anche un'opportunità per far conoscere Arezzo dal momento che poi abbiamo messo a punto un progetto che sta funzionando che potrebbe essere presentato al Presidente Nazionale dell'Ente Cinofilo Italiano come un format replicabile per tutte le razze, quindi volendo Arezzo può diventare anche la capitale di tante altre manifestazioni.